Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Renato di Brescia Siamo in compagnia loro Vengono da Variano, provincia di Bergamo E loro sono la classe 1991 Allora ragazzi, portavoce femminile voglio Lei quella con gli occhiali Occhiali, scelgo con gli occhiali Domanda semplice Chi risponde? La bionda? Ok Allora, istituzione domanda semplice Se io ti dico 1991, Variano, Bergamo, te cosa mi rispondi? Guerra del colpo Guerra del colpo Guerra del colpo Guerra del colpo Guarda del colpo Guardi quello che vuoi Natura Ok, perfetto Ora siete pronti a cantare? Ok, vai Noi, Demo per noi Io Un giorno che ne so Se il futuro non può essere ne so Solo una vita Soddisfatti o no Qua non rimborsano mai E il calendario A chiederti se Stiamo prendendo abbastanza Abbastanza Se per ogni sbaglio avessi mille lire Che le cagliere Che le cagliere che passerei Strate troppo strette diritte E per chi vuoi cambiare rotta Oppure sdraiarci un po' Ci sento adesso Che la dare va a piedi e però A volte serve un motivo Un motivo E che i giorni ci chiediamo è tutto qui E la risposta è sempre sì Che non è tempo per noi Che non ce ne sembriamo mai Abbiamo sogni però Troppo grandi e belli sai Meglio tutti abbiamo pazzi Che però non cambia mai Non è tempo per noi E forse non lo sarà mai Ehi Viva la classe 91 Adriano Bergamo Ehi Senta notte qui E' torno pazzi di qua Lasciati amare Poi scordati Spresta di me Che quel giorno è già buono per Amare qualche d'un altro Qualche altro Qualche altro Dicono che noi ci stiamo buttando via Ma siamo bravi a raccoglierci Non è tempo per noi Che non ce ne sembriamo mai Fuori vada Fuori posto Insomma sempre fuori dai Anche ancora nel paziente Rassegnate i nostri guai Non è tempo per noi E forse non lo sarà mai Non è tempo per noi Che non vestiamo come voi Noi andiamo Noi andiamo Noi andiamo Noi andiamo Come voi Non è tempo per noi Non è tempo per noi E forse non lo sarà mai Non è tempo per noi E forse non lo sarà mai E forse non lo sarà mai E forse non lo sarà mai On lo sarà mai All natürlich Sono quanto ungere Grazie.